Allora, è una questione abbastanza delicata e soprattutto, come si dice un po' fuori l'onda, si gioca sulla pelle delle persone che hanno gravi difficoltà, sono malate, eccetera. La Regione ha dato delle aperture per ampliare il numero di impegnative, quindi far sì che possano accedervi più persone oppure non ci sono finanziamenti sufficienti, non c'è nessuna possibilità da questo punto di vista. Beh, ad oggi noi continuiamo sempre, è una richiesta costante che le organizzazioni sindacali tutte, ma insomma in particolare naturalmente i sindacati dei pensionati, continuiamo costantemente a fare e insieme anche alla richiesta di trasformazione delle IPAB e comunque chiediamo, ecco questo ci tenevo a dirlo, chiediamo che restino pubbliche e che diventino centri di servizio, cioè che diventino dei punti di riferimento per i cittadini nei vari territori, non solo per la residenzialità, cioè per quando devo essere ricoverato dentro a questa struttura, ma anche per i servizi di semi-residenzialità e per tutti gli altri servizi a supporto anche della domiciliarità. Guardate, molto banalmente stiamo pensando ai pasti veicolati. Va detto che noi in Veneto, anche a Padova perché i dati possiamo anche… ma noi in Veneto stiamo davvero invecchiando. Quando lo diciamo, vanno detti dei numeri, nel Veneto siamo in 4 milioni e 900 mila abitanti, di cui un milione over 65, quindi il 22% dei Veneti è over 65. Di questi, il 18,7% di persone anziane, quindi oltre 200 mila, sono non autosufficienti. Quindi noi stiamo parlando davvero di problemi grossi, che interessano tutta la regione. Abbiamo 27.300 ospiti nelle 310 strutture del Veneto ed è una discreta copertura come numero di… perché se andiamo a valutare per esempio i dati nazionali, insomma è un buon livello di copertura, ma non sono sufficienti. Ecco, però ci sono posti vuoti ancora nelle case di riposo. Legati a questo problema, legato al fatto che se non ho la chiave che mi fa entrare, che è questa benedetta impegnativa, che mi consente, che consente alla famiglia, al pensionato di coprire quella parte alberghiera, io se non ho in mano quella chiave non entro. A meno che io non abbia delle situazioni di gravità che sono anche legate all'invecchiamento, perché poi la valutazione viene fatta sul mio livello di salute che dicevamo, no? C'è una unità si chiama, guardate così, non diciamo… si chiama unità di valutazione multidisciplinare distrettuale che elabora una scheda svama, cioè analizza 17 parametri in base a quello, dice il tuo grado di non autosufficienza. Certo che se sei non autosufficiente al 100%, no? È chiaro che… Ma io chiedo, facendo l'esempio, ci sono tanti anziani che per esempio vivono da soli, da soli o in coppia, perfetto, non hanno difficoltà ad ambulare, non possono andare a fare la spesa, hanno difficoltà a muoversi per casa, possono cadere, non hanno assistenze vicino di carattere parentale, magari i figli lavorano lontano e così via, però magari non sono malati, però non possono stare a casa perché è rischiosissimo, però l'abbiamo visto tanti purtroppo casi di incidenti molto gravi tra le pareti domestiche proprio perché non hanno questa capacità, però non hanno la possibilità di avere questa impegnativa. Eh no, se sono autosufficienti che camminano… Eh però autosufficienti vuol dire che devono anche poter mangiare, ma non riescono neanche a mangiare. È per questo che noi chiediamo che le IPAB diventino dei centri… Sul territorio. Sul territorio, perché sono vicini al bisogno del cittadino e che abbiano, un rapporto stretto tra i centri di servizi e per esempio i sindaci di quel territorio, in modo che ci sia anche uno scambio di informazioni costante, un monitoraggio costante, perché l'altra situazione è questa, quello che avviene è anche questo, cambiano i bisogni, c'è poco da fare, invecchiando l'autonomia diminuisce, quindi cambiano i bisogni e noi dobbiamo dare le risposte giuste al bisogno che si crea in quel momento che cambia, si modifica. Quindi è questo quello che noi chiediamo, che le IPAB restino pubbliche, diventino appunto punto di riferimento per questa popolazione in quel territorio e che possano dare tutti i servizi di cui i cittadini hanno bisogno. Siamo in chiusura, che cosa possiamo dire, ribadire, ricordare e quindi prossime iniziative? Perché non si organizza un presidio fisso a Venezia? Hanno perso la visione del popolo, ogni tanto dobbiamo ricordargliela. Sì, presidio. Intanto facciamo bene questi presidi di domani, che è un segnale che vogliamo dare al governo, che le organizzazioni sindacali su questo tema sono decise, decise a portare a casa dei risultati significativi. Diciamo che, come abbiamo sentito anche oggi dal tema degli anziani, della non autosufficienza, in fronte le cose da fare sono molteplici. Noi come sindacato dei pensionati cerchiamo di focalizzare la nostra iniziativa da una parte per la difesa del reddito dei pensionati, perché questa è la precondizione per avere una possibilità di poter agire, perché adesso non è stato citato, ma molti qui si intreccia molto col tema delle badanti, della necessità. La regione, non so se abbia già fatto o sta per fare una legge, perché era in discussione, era in discussione il 10 di ottobre, sul tema delle badanti, perché lì bisogna fare anche lì una regolamentazione, diciamo, efficace perché altrimenti incolliamo il rischio di dare una roba. Quindi il sindacato è presente sul territorio, bisogna anche partecipare, sostenere e soprattutto partecipare e dare una mano. C'è nelle nostre sedi una grande disponibilità a coinvolgere cittadini che vogliono dare una mano anche al sindacato e quindi questo è l'invito positivo. Fatevi vivi. Fatevi vivi che c'è come dire una... Che serve, che è utile, che quindi vi dà maggiore anche forza nell'ottenere determinate cose. Più persone ci sono, più stanze vengono fatte, più forza naturalmente c'è anche nei confronti delle trattative del governo. Grazie a voi di essere stati con noi, Ivana Fogo e Daniele Tronco, grazie a voi di averci seguito come sempre, noi vi terremo aggiornati, comunque fate pure le vostre domande, ricordateci, sollecitateci su certe scadenze che magari ci possono sfuggire e vedremo dopo la data ovviamente del 24, se non erro, ottobre cosa succederà. Incrociamo le dita, intanto buon proseguimento, grazie. Al prossimo episodio Al prossimo episodio